Completiamo l'introduzione con un po' di richiami al percorso e all'oggi. Innanzitutto, lo dico per chi è collegato e per chi non ci conosce, voi lo sapete sicuramente, noi siamo Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Abbiamo una storia che ormai ha superato dal 2018 i 50 anni e facciamo un percorso che negli ultimi anni è stato caratterizzato dalla Carta dei Diritti 2014, dalla agenda della Sclerosi Multipla lanciata al Ministero della Salute con un percorso che ci portava, ci avrebbe dovuto portare fino al 2020, in realtà siamo andati avanti fino al 2021, come sapete per i tempi di pandemia, e ogni anno abbiamo percorso questa strada verso l'agenda 2020, quindi verso gli obiettivi che ci eravamo dati, con un barometro annuale. I prossimi giorni, il 30 maggio, giornata mondiale della Sclerosi Multipla, in Parlamento presenteremo con le istituzioni e con tutti gli stakeholder del movimento Sclerosi Multipla, il percorso che ci aspetta, un percorso dove abbiamo ridefinito innanzitutto la Carta dei Diritti con nuovi diritti, l'agenda della Sclerosi Multipla verso il 2025 e presentiamo il barometro 2022, i dati, i numeri, perché con i numeri si hanno quegli elementi inequivocabili, indiscutibili su dove siamo e quindi sappiamo qual è il percorso da fare per andare oltre. Voglio soltanto ricordarvi della Carta dei Diritti, che poi vedrete il 30 maggio quando sarà presentato, il diritto alla ricerca, che è stato definito in un percorso, insieme ricercatori e persone con Sclerosi Multipla, e voglio leggervelo, tutte le persone con Sclerosi Multipla, patologie correlate, loro familiari e caregiver, hanno diritto a una ricerca scientifica rigorosa, di eccellenza innovativa, che sia indirizzata, promossa e finanziata, in modo corresponsabile, insieme da tutti gli attori che condividono questa missione, verso una cura personalizzata. Il diritto alla ricerca si esplica anche attraverso la cittadinanza scientifica, che si traduce in conoscenza e coinvolgimento nella ricerca di tutti i cittadini, al fianco delle persone interessate, in modo da garantire la piena partecipazione e la traduzione della ricerca in risposte concrete per le persone e per la società. Non vi anticipo i temi dell'agenda, perché ve ne ricorderò due alla fine di questa presentazione, ovviamente copre i temi, cioè la salute, l'inclusione, l'informazione, la comunicazione e la ricerca scientifica, presentando per ognuno di questi aspetti, anche per la ricerca scientifica, i risultati attesi per il 2025. Un impegno collettivo che vede la possibilità per ogni stakeholder di decidere qual è il suo contributo, come abbiamo fatto negli anni scorsi. Due parole di introduzione, con alcune slide che riprendono delle immagini dal barometro della scelosi multipla, che quindi riceverete, vedrete, il 30 di maggio. Per ricordare che il nostro portfoglio della ricerca è a tutto tondo e comprende ovviamente quella ricerca che attraverso il bando seleziona le nuove proposte di eccellenza, ma attraverso poi i progetti speciali copre tutte le altre aree che possono portarci collettivamente a dare quelle risposte concrete che le persone con scelosi multipla e non solo, perché come avete visto parliamo di patologie correlate, a maggior ragione quest'anno che abbiamo di fronte il tema del complesso delle malattie della neuromielite ottica che hanno dei farmaci che arriveranno innovativi e che hanno diritto alla cura, come ha avuto e deve avere la scelosi multipla. Voi conoscete già questa slide che abbiamo già condiviso l'anno scorso, il percorso del PNRR che abbiamo anche discusso e abbiamo contribuito con i due ministri che si sono succeduti alla ricerca a dare un contributo di riflessione e soprattutto sottolineare cosa possiamo fare noi e ovviamente la ricerca di eccellenza finanziata dall'associazione è un contributo importante, è un contributo che tutta la ricerca italiana, ma ormai da tanti anni e dal 1986 che finanziamo la ricerca scientifica sulla scelosi multipla, anche con risultati di eccellenza, ovviamente abbiamo seguito anche la ricerca Covid in questo ultimo periodo. Si parte dalla ricerca di base, ricordo questa pubblicazione per due motivi, uno perché abbiamo percorso una lunga strada anche sul fronte delle cause della scelosi multipla finanziando ricerche in questo campo, ma la ricordo anche perché in questo tema, come in altri temi, lo troverete nel barometro questo dato, possiamo dimostrare che la ricerca finanziata dalla FISM viene diffusa e quindi portata a conoscenza della cittadinanza con un indicatore che è anche spesso e volentieri più alto di quello della ricerca italiana ed è importante arrivare a tutti i cittadini. Ovviamente nell'agenda 2020 avevamo tante priorità strategiche, ricordo le forme progressive, il data sharing, la medicina personalizzata, semplicemente per ricordarvi questi temi in cui in questi cinque anni abbiamo dedicato molti finanziamenti, così come col bando annuale abbiamo coperto tutte le aree di ricerca con un contributo bilanciato per fornire a tutti questi temi di ricerca, a tutte queste direttrici della ricerca, gli elementi e il sostegno, poi a questo si sono aggiunti ovviamente i progetti speciali. In questo momento sono attivi quasi 100 progetti di ricerca con più di 80 gruppi di ricerca che stanno lavorando a questi progetti, in realtà i gruppi di ricerca che con i nostri finanziamenti in questi cinque anni hanno lavorato sono più di 180, quindi la ricerca italiana ampiamente sostenuta e non solo quella della scelosi multipla ma anche di tutti i temi correlati. Un elemento importante è che il PNRR, quindi i ministri con cui abbiamo interagito e ci siamo confrontati non solo noi ma tutta la comunità, hanno sottolineato elementi negativi dal punto di vista della ricerca italiana e sono elementi nei quali noi portiamo un grosso contributo sia per le collaborazioni internazionali che da sempre abbiamo voluto, sia per il coordinamento anche di reti internazionali, sia per la collaborazione industria e ricerca che oggi pomeriggio sarà ancora una volta l'attenzione. Vi ricordo che abbiamo lavorato molto per il Covid e quello che abbiamo fatto è partire immediatamente dopo pochi giorni con un'alleanza trasversale, la società italiana di neurologia, quindi tutti i centri, abbiamo messo a disposizione il registro italiano scelosi multipla, la società italiana di neuroimmunologia, l'altro giorno abbiamo anche condiviso al congresso della società italiana di neuroimmunologia una serie di riflessioni sull'importanza di lavorare insieme, l'abbiamo cominciato a fare da subito e l'abbiamo fatto ovviamente e oggi ne parleremo raccogliendo i dati di quello che stava succedendo a partire dall'inizio di marzo del 20, ma soprattutto poi lavorando a tutti i temi approfonditi di ricerca, che oggi lo ricorderemo, anche se nel congresso scorso ovviamente abbiamo dedicato uno spazio importante. Proprio con questa stessa logica oggi pomeriggio parleremo di un tema nuovo, noi abbiamo sostenuto, oggi avremo un dettaglio nell'ambito del data sharing, un percorso che ha visto in prima linea il registro italiano scelosi multipla creato da noi, ma poi altri database che si sono sperimentati in un percorso che oggi ascolteremo e oggi vi parleremo anche all'interno della tavola rotonda del percorso che vogliamo fare da oggi in poi con questo nome che vedete scritto, cioè mettere insieme per ogni paziente tutti i dati che possono essere raccolti da adesso per il futuro. Solo per ricordarvi le alleanze internazionali, proprio il percorso che abbiamo fatto insieme a SIN e a INI di definire, al registro di definire l'agenda della scelosi multipla rispetto al Covid, questa agenda è stata poi presentata, condivisa anche a livello internazionale, quindi abbiamo guidato queste scelte a livello internazionale e sono ovviamente uscite sulla letteratura scientifica, così come coordiniamo progetti e partecipiamo attivamente da ormai una dozzina d'anni a un percorso per le forme progressive con l'alleanza che noi e altre tre associazioni, che sono i principali finanziatori con noi della ricerca mondiale, abbiamo fatto percorrere. L'ultimo progetto più recente è quello dei Patient Reported Outcomes, un progetto condiviso con la Charcot Foundation, la nostra federazione internazionale, noi leading agency e sono già uscite parecchie pubblicazioni a partire da quella di presentazione che aveva fatto l'ANSET alla presentazione Electrims di questo progetto, sottolineando quanto si attende la comunità internazionale da questo percorso che è importante ovviamente per le persone con sclerosi multipla, anche per le aziende e per le agenzie regolatorie. Ricordo che con il registro abbiamo partecipato a un kick-off meeting per gli studi pass per la sclerosi multipla, EMA ha scelto quattro registri europei che avrebbero partecipato agli studi pass da quel momento in poi, abbiamo fatto questo percorso, condiviso anche con gli altri registri in risposta alla richiesta di EMA e a fianco delle aziende. Un tema anche questo importante sul quale non ritorno, ma ne abbiamo già parlato. Oltre poi, l'ultima cosa che voglio sottolineare, l'importanza di lavorare con le istituzioni, siamo presenti nei lavori che sono relativi alla rete nazionale degli IRCS con l'Istituto Virtuale Sclerosi Multipa, ma anche la rete dei centri neurologici, soprattutto anche come coordinamento del task sull'advocacy. Un network che per noi è importante con tanti attori, ricordo più recentemente l'Inps in questi ultimi cinque anni e l'Inail per i progetti sul lavoro, ma un network che è fondamentale per portare avanti non solo le ricerche, ma anche l'attività di advocacy nazionale e internazionale, che ho già ricordato. Finisco con la slide dell'agenda che avete già visto, per sottolinearvi che oggi dedicheremo questa mattina a uno dei temi fondamentali, che è quello di indirizzare, promuovere e finanziare l'agenda di ricerca multi-stakeholder e multidisciplinare nelle aree prioritarie della ricerca, orientata alla missione, con una governance partecipata e sottolineo l'importanza di lavorare per tutte le patologie neurodegenerative in maniera trasversale. Oggi pomeriggio parleremo invece dell'indirizzare e promuovere finanziare le piattaforme digitali di condivisione di dati clinici, risonanza magnetica, genomici e pazienti riportati, promuovendo anche continuo aggiornamento del registro italiano, per il quale, come molti di voi sanno, abbiamo avuto un contributo anche in legge di bilancio, che discuteremo a giorni con il Ministero della Salute e che deve dare un indirizzo e una risposta fondamentale. E soprattutto, entro nel passo alla giornata di oggi, dobbiamo promuovere un'agenda comune globale relativamente alla ricerca sulla sclerosi multipla e alle altre malattie neurodegenerative. Vi ringrazio e volevo soltanto concludere con un ringraziamento alle aziende che sono al nostro fianco. Nel registro sono tante le aziende che ci sostengono. Oggi ringrazio per il sostegno al convegno, al congresso di questi giorni, Alexion, Biogen, Bristol Myers-Quibb, Janssen, Merck, Novartis e Sanofi. Grazie. 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 Grazie.